Come sapete l'edicola del Trap si occupa spesso e volentieri di quelle trasformazioni in atto nella società. Abbiamo una pubblica dedicata all'intelligenza artificiale con i grandi risvolti nel vivere comune e oggi ci occupiamo di un settore che è in fortissima evoluzione, anzi forse si potrebbe parlare di rivoluzione. Ne parliamo con il professor Franco Cotana che era adesso in aspettativa ordinario all'Università di Perugia ma soprattutto amministratore delegato di RSE all'indomani di una fondamentale intesa firmata sul campo delle energie alternative con Terna. Allora professore, intanto cerchiamo di capire qual è la portata di questo accordo che mi sembra veramente importantissimo. Sì, RSE come sapete o che comunque diciamo che spiego è una delle quattro società del gruppo GSE, il gestore dei sistemi energetici nazionali che fa ricerca nel settore energetico e nel sistema energetico italiano avendo dei laboratori circa 400 ricercatori, laboratori a Milano, a Piacenza, adesso una sede anche a Roma e che svolge attività di ricerca in tutti quei componenti e sistemi che rendono l'energia distribuita nel nostro paese e che è una sede continua ma anche resiliente rispetto a quelle che sono le trasformazioni che da qui ai prossimi 25 anni dovremo affrontare. L'orizzonte è 2030 ma 2050, tutti sanno che c'è l'obiettivo del net zero, cioè di non emettere anidride carbonica al 2050 e pertanto siamo tutti impegnati in una trasformazione epocale del sistema produttivo che era basato su combustibili e energie fossili in un nuovo sistema che deve essere basato su sistemi energetici di produzione, di distribuzione e di stoccaggio che hanno come origine produzione di energia che non emette CO2. Dico non emette CO2 perché non sono solo energie rinnovabili, tutti sanno che anche l'energia nucleare non emette CO2, ha altri problemi magari quello delle scorie e della sicurezza, però anche questa è stata annoverata nella tassonomia europea e non solo ma ultimamente proprio perché le energie rinnovabili non sono programmabili in quanto variano a seconda della presenza della sorgente, cioè del sole nel caso del fotovoltaico o del vento nel caso dell'eolico, abbiamo questo problema di rendere continua la fornitura di energia anche nei momenti in cui vengono meno queste fonti e quindi abbiamo bisogno di una sorgente programmabile che attualmente nel novero delle energie rinnovabili può essere prodotta o dalla geotermia, dalle biomasse o in parte dall'idroelettrico, ma ancora di più dalle nuove tecnologie più sicure e anche più affidabili direi del passato, dei nuovi sistemi di produzione di energia da fissione, ma in una prospettiva che si sta accorciando sempre di più, anche quelle da fusione nucleare. Allora, fatta questa premessa, l'accordo di cui parliamo oggi, sottoscritto l'altro giorno con Dameda, l'amministratrice delegata di Terna, è un importante passo di collaborazione per studiare numerose problematiche che sono alla base dell'affidabilità, della resilienza in questo caso della rete elettrica nazionale. Sapete che Terna è la società con oltre 5.700 dipendenti che trasporta l'energia elettrica nel nostro paese e si interfaccia con la rete dell'energia elettrica europea, facendo anche gli scambi tra un paese e l'altro. Quindi Terna è quella società che gestisce tutte le linee ad altissima tensione, i tralicci, quelli più grandi, che appunto collegano, diciamo, i punti di produzione e i punti di consumo dell'energia elettrica.